Quando inizierai il tuo percorso universitario nel Regno Unito scoprirai che avrai molto tempo libero. Solitamente le ore di lezione frontale sono dalle 10 alle 20 ore a settimana e quindi ti rimarrà molto tempo da dedicare allo studio e alle attività extracurriculari, al volontariato, lo sport oppure al lavoro. Quindi come puoi organizzare la tua settimana? Ci sono tre step molto semplici da seguire. Il primo è dividi le aree della tua vita di quando sei nel Regno Unito, quindi una prima area potrebbe essere le lezioni e gli esami, una seconda area potrebbe essere un lavoro part-time, una terza area gli amici e la famiglia, una quarta te stesso, quindi il tuo benessere, la necessità di riposo e di self-care in un certo senso, e una quarta, quinta, eccetera. Per ogni area, ogni settimana, creati un obiettivo, non deve essere un obiettivo impossibile, un piccolo semplice obiettivo, può essere leggere e studiare un certo numero di pagine, oppure incontrarsi con un amico che non si vede da tanto, chiamare la famiglia, qualunque cosa sia. E poi dividi questo obiettivo in tanti piccoli task, in tante piccole cose da fare, che potrai inserire direttamente sul tuo calendario, così da organizzarti al meglio. Organizzarsi a livello settimanale, al posto che il giornaliero ti permetterà di avere un minimo di flessibilità, perché cosa succede quando ci troviamo a organizzare la nostra giornata con una to-do list specifica, ci sentiamo obbligati a raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati inseriti nella to-do list per quel giorno. Se invece abbiamo una settimana, possiamo spostare e adattarci alle varie necessità, perché abbiamo una settimana di tempo, quindi sette giorni. Questa flessibilità è fondamentale perché, come vedrai quando sarai nel Regno Unito, ci saranno delle occasioni in cui scopri un evento all'ultimo momento, o un amico ti chiede di andare a cena fuori per conoscere altri studenti. Quindi sono tutte cose che non potevi programmare prima e se hai la flessibilità dell'organizzazione settimanale non ti troverai mai impreparata e potrai dire di sì a queste nuove opportunità. Se vuoi sapere com'è una giornata di uno studente universitario nel Regno Unito, puoi cliccare su questo video.